Musica Buonasera a tutti, siamo qui allo stadio comunale di Anguillara per l'ultima serata del girone del torneo dei Rioni 2012 Stasera giocheranno la stazione contro Castello per aggiudicarsi la finalissima di sabato 21 Siamo qui con LTB Weddings, sponsor ufficiale di questa serata, in particolare con Francesca Lattanzi che salutiamo Esattamente di cosa vi occupate? Noi facciamo servizi fotografici e video per eventi, cerimonie e qualsiasi altra cosa che abbia necessità di riprese Insieme a Luca Tedesco, videomaker, abbiamo creato questa nuova realtà E qual è il vostro valore aggiunto? Il nostro punto di forza è sicuramente la qualità innanzitutto a prezzi competitivi Quindi diamo la possibilità anche alle giovani coppie di poter effettuare un servizio di alto livello Però a costi accessibili Una delle location in cui potete trovarci sono le scuderie Ode Scalchi a Bracciano Oppure il nostro sito www.ltbweddings.com La nostra pagina ufficiale Facebook, LTB Weddings In cui troverete sempre novità e nuovi servizi Li prende palla al Castello Buona azione, gol Il Castello si porta in vantaggio Bello, bello Tonetti emozionati La spazzata Che adesso è lì A cercare Sfaciotti Buono subito Il passaggio di prima Sulla fascia Due contro due Salta il portiere Buono l'intervento Il difensore si esalta Ancora palla dentro Si rimane ancora lì Non si cambia gioco Arriva adesso il lancio lungo A servire Sfaciotti Che non riesce ad agganciare il pallone Adesso il numero 7 Entro Bellissima rete da parte del numero 7 Della stazione Che recupera il divario che c'era a inizio gara Risultato attuale Uno a uno Tra il Castello e la stazione Ottima la scenografia da parte della stazione Ancora un'altra coreografia Apprezziamo Queste magnifiche esultanze Da parte dei giocatori della stazione Contropiede Attenzione la stazione è contropiede Buono il numero di Sfaciotti Si ferma Ingana il portiere La palla che rimane lì Buono il numero Che rete Che rete Davide Sfaciotti Che inganna prima il difensore Poi anche il portiere del Castello Mettendo La palla in rete Ottimo il gesto atletico del giocatore La potenza La potenza La grinta Nel suo fisico ortello Gara Michelino Palla per Toro Pazzo Vediamo adesso il Michelino Scatto velocissimo Che potenza Che potenza E il Riccardo Vincere Vincere In bocca Continua Il show In bocca Mira E la palla Sfaciotti Hai Dalla tributa Ci siamo spugliati Dalla tributa Ti stiamo esaltando E eh Dalla tributa Alla dentro, buono l'esecuzione da parte di Mazzone Partita un po' spenta, a volte noiosa, fino all'ingresso però di Michelino che dopo pochi secondi che era in campo segnava il gol del pareggio Raccontaci le emozioni di questo gol Ma non pensavo neanche io di fare un gol del genere Mi hanno tutti applaudito sia quando sono entrato in campo che quando sono uscito Sul 2-1 non credevo di svolgere questa partita come andava, questa partita così Adesso andiamo in finale, io sono del cassello E tu Alessandro? Giocherai la prossima partita? Sì, credo di sì Ma dal primo minuto? Dal primo minuto all'ultimo quarto d'ora Acclamato da tutti quanti, da entrambe le squadre Voglio bene a tutti, saluto tutti, soprattutto ragazzi del castello E scudiamo la prossima parte Un commento a caldo su questa partita, un po' sotto tono Come visto abbiamo iniziato malissimo, abbiamo preso subito gol Però siamo riusciti ad entrare subito in partita Come appunto riusciamo spesso e volentieri E poi alla fine è andata come è andata È finita in allegria e è giusto che sia così I biscotti soprattutto, speriamo che a Valli mangeranno per tutta l'estate Uno dei migliori difensori di questo torneo Dal quale vogliamo sapere, cosa ti aspetti dalla finale? Beh, io penso che sia una partita bella E speriamo comunque sia che ci porta fortuna Una bellissima vittoria Come tre anni fa La stazione come si preparerà per la finale di sabato? La stazione è una squadra fatta di gente umile soprattutto Anche che comunque sia pronto a combattere l'uno per l'altro Quindi sarà una partita maschera, una partita difficile Noi vi diamo appuntamento a sabato, 21 luglio Qui allo stadio comunale di Anguillara alle 21.30 per la grande finale Con Di Placido e Andrea volevamo fare questa dedica della vittoria Tutta una, per una persona, no? Sì, beh, solo per lui Solo per lui, perché ecco ci mette tanta passione Però purtroppo arriva sempre corto Non arrivano mai in finale In bocca al lupo per l'anno prossimo Alla valle, purtroppo ecco Arrivano sempre corti Quindi vogliamo dedicare questa seconda finale consecutiva Al signor Simone Donetti Simone Donetti Grazie Continuate a seguirci su www.zontv.it Per Zontv, Chiara Cirillo Grazie 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 Grazie